ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da vivi centro network direttore mario ballon castellammare di stabia napoli arrestati 26 affiliati ai clan d'alessandro ea feltra di martino castellammare di stabia napoli arrestati 26 affiliati ai clan d'alessandro ea feltra di martino i carabinieri del nucleo investigativo di torre annunziata hanno appena eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere degli amministratori delegati e dell'obbligo di presentazione alla procura generale della repubblica emessa su richiesta della direzione distrettuale antimafia di napoli dall'ufficio gip del tribunale di napoli la misura cautelare è stata eseguita nei confronti di 26 soggetti gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti detenzione illecita eccessione di sostanza stupefacente reati tutti aggravati dalle finalità mafiose per aver agito avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al clan d'alessandro operante in castellammare di stabia nonché al clan a feltra di martino operante sui monti latar l'odierno provvedimento trae origine da una più ampia ed articolata attività d'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia termina così il nostro momento di informazione chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive